per dedicarmi anima e corpo ad affrontare il senso che sono ovviamente più lungenti che la politica dovrà affrontare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e se non saremo chiamati come diretti se dovessimo essere chiamati a governare questa passione vorrei consegnare da subito che abbiamo il vento di dare risposte efficaci e immediate ai principali problemi della nazione